Buongiorno a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di FanoTV, come sempre sintonizzate le 7 e mezzo del mattino in diretta, buongiorno naturalmente, ben ritrovati anche a coloro che ci seguono in replica ed è più facile anche considerando che sono per molti giorni ancora di festa e quindi magari ci seguono in altri orari. Ben ritrovati, allora cominciamo dal santo del giorno, vediamo subito, oggi è il beato Giovanni Maria Boccardo, il sole è sorto alle 7.41 e tramonterà alle 16.40. Allora diamo un'occhiata al tempo, alla cartina che ci propone il meteo.it con questi giorni contati soprattutto per la nebbia, il maltempo che arriverà da sabato, aria più fresca da est, poi arriverà anche la pioggia, la neve dal 2-4 di gennaio. Questa è la cartina, ci limitiamo semplicemente a mostrarvela, ognuno guarderà la zona che gli interessa ma subito ci spostiamo sulla regione, sulla nostra regione per dare uno sguardo alle previsioni della protezione civile delle Marche e allora per indicarvi che oggi avremo una giornata parzialmente nuvolosa, non si escludono piovaschi nella serata soprattutto nell'entroterra meridionale e ci saranno anche delle nevicate sulle cime appenniniche più elevate. Le temperature sono in diminuzione nei valori massimi, in aumento invece nei valori minimi. I venti sono deboli, moderati lungo la fascia costiera e questo è già un buon segnale il ritorno del vento che comunque sposta anche le PM10, quindi sposta un po' anche l'inquinamento. Per quanto riguarda la giornata di domani, domani è il 31 di dicembre, ultimo giorno dell'anno, avremo un cielo parzialmente nuvoloso per la presenza di nuvole basse in mattinata, poi un transito di velature compatte nel pomeriggio. Non si escludono nottetempo sui rilievi centro-meridionali ancora possibilità di precipitazione. Le temperature sono in lieve diminuzione, ci sono anche un po' di venti dai quadranti settentrionali, non si escludono foschie nelle ore serali. Il primo dell'anno, come si apre questo 2016? Si aprirà più o meno come si è chiuso, con un cielo nuvoloso, parzialmente nuvoloso al mattino, con copertura in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature sono senza variazione di rilievo, non pioverà, non ci saranno precipitazioni, non si escludono invece foschie durante le ore più fredde della giornata. Poi ci sarà un possibile, probabile transito di questa perturbazione di cui parlavamo dal 2 al 4 sul territorio marchigiano tra le giornate di sabato e domenica, vedremo poi quali saranno gli apporti in termini di precipitazione. Allora, cominciamo a leggere i giornali, cominciamo da questo fatto, questo fatto che è accaduto a Montellabate, beve un tè preso in una macchinetta automatica e finisce in ospedale. Perché? Cosa è successo? Lo vediamo subito. Beve tè inquinato da escrementi di topo, di ratto, colpito da troci a fitte, finisce in ospedale, è successo a Montellabate, segnalazione che è finita ovviamente in procura, l'uomo però è fuori pericolo, la bevanda è stata presa in un distributore automatico, sistemato in una lavanderia della zona di Montellabate, scattata. Naturalmente la denuncia come dicevamo. Poi l'altra avventura invece il miracolo di Natale, l'ha definito il resto del Carlino, bloccato nel ventre della Maiella, così ho superato, racconta, una notte alla gelo, Fabio Gennari che narra la sua odissea, ho avuto paura di non farcela. È davvero un miracolo di Natale perché Fabio Gennari, 57 anni, benzinaio, ha miscelato il suo antigelo contro una notte da incubo nel ventre della Maiella dove tra domenica e lunedì è rimasto bloccato dopo un'escursione da favola. Mandorle, cioccolata, pane, arancio, mandarino e poi naturalmente un pizzico ma aggiungiamo sicuramente abbondante di coraggio che non è mancato. Ecco guardate dove si è rifugiato, in alto a destra appunto Gennari, poi sotto una grotta, la grotta dei Callarelli e sotto la Brandina dove appunto ha dormito all'adiaccio. Poi i botti, i botti dell'ultimo dell'anno. Allora, intanto il duello tra Pesore e Fano che è più un duello giornalistico naturalmente, botte, ordinanza, fasulla e gli animalisti insorgono. Il duello è perché Fano ha firmato il sindaco un'ordinanza per tutto il territorio comunale mentre Pesaro solo per la piazza e le vie limitrofi. Quindi a Pesaro è vietato sparare i botti solo in piazza del popolo e lì vicino mentre a Fano in tutto il territorio comunale. Gli animalisti insorgono, Pesaro li vieta solo per il centro, dicevamo, e le vie limitrofi. Questa è la notizia e sotto i pareri, i pareri del sindaco di Fano Seri che dice un atto di prevenzione che abbiamo voluto applicare ovunque si possano creare raggruppamenti di persone, questo significa non solo in piazza 20 Settembre o in centro storico ma in qualunque quartiere della città, mentre il vice sindaco di Pesaro Vimini non abbiamo le forze per un presidio più ampio e dunque dice noi ci occuperemo soltanto di vigilare in piazza del popolo e lì attorno. Poi la pagina di Fano invece del Carlino, in evidenza a tutta pagina il bilancio, il bilancio del sindaco Seri che ieri ha incontrato la stampa in un circolo per anziani, un circolo riservato agli anziani a Sassonia, ecco perché la mia città va al massimo, questo è lo slogan, il sindaco sull'anno di lavoro, qui lo vedete in compagnia di alcuni assessori e sotto invece con la presidente del circolo di Sassonia Rita Gabbianelli. Dall'altra parte invece parla l'ex sindaco della città di Fano Stefano Guzzi che dice sulle opere accessorie dell'A14, sono stati persi due anni di tempo, avrebbe, questa è la critica mossa da Guzzi, avrebbero potuto firmare la convenzione l'anno scorso rinunciando a Fenile. Poi chiede e indica a Guzzi, agli assessori e al sindaco, da qualche input, da qualche consiglio, ci vorrebbero capacità, umiltà e rispetto, è quanto chiede alla Giunta Seri che attraverso l'assessore alla legalità Mascherin raccoglie la sfida e rilancia, invito a Guzzi ad un incontro pubblico per mettere a confronto le cose da lui fatte in un decennio e quelle da noi realizzate in un anno. Andiamo sull'altra pagina, vediamo che cosa scrive sempre sulla pagina di Fano il Carlino, un marchio di qualità per la vongola di Fano, Tonino Giardini che è responsabile della pesca del Coldiretti, lancia questa proposta di una identificazione geografica fondamentale. Vanno, le regole vanno allevate e controllate in un'area di semina, riproduzione e raccolta, dunque è questa la proposta, cioè di un marchio di qualità per la vongola made in Fano. Poi c'è invece questo consiglio di Riccardo Severi, è stato ex assessore, insomma è stato assessore della città di Fano, adesso fa parte del gruppo Noi Città del sindaco Seri e lancia una proposta che secondo me non è sbagliatissima, anzi è una strada che secondo me bisognerebbe percorrere al di là di quella della giustizia che però a quanto pare è servita poco dopo 8 anni si è ricominciato da capo, insomma dopo la sentenza della... e quindi Severi cosa propone? Dice basta con le cause, parliamo direttamente con il museo, parliamo direttamente con chi detiene effettivamente la statua dell'Isippo. Non sono stati anni sprecati, tutto è servito a mantenere alta l'attenzione su una vicenda di grande importanza per il valore che potrebbe portare alla città di Fano e a tutto il territorio marchigiano se la statua riuscisse un giorno ad essere rimpatriata. Così dice il consigliere Boris Rapa che tra l'altro ha presentato insieme a Minardi anche una mozione in regione, però ecco la proposta che potrete leggere sempre sulle colonne del giornale appunto è quella di parlare direttamente con la fondazione e di chiedere in qualche modo di trattare in qualche modo su questa statua. Adesso non so se c'è scritto in questo articolo, però si potrebbe pensare anche ad uno scambio temporaneo insomma, qualcosa del tipo tot di mesi in Italia e tot di mesi oppure tot di anni poi a Malibu, quindi una sorta di scambio di opere, noi potremmo offrire qualche cosa a loro e loro ci restituirebbero per qualche mese il lisipo. Credo che questa sia una soluzione anche più facile da portare a casa. E sempre sull'isipo, sempre dell'isipo si parla sul Corriere Adriatico, mozione di Minardi e Rapa, i consiglieri chiedono alla regione di sensibilizzare il Ministero della Cultura per favorire il rientro della statua. Poi a centro pagina, siamo regime, basta guardare i fatti. Massimo Seri elenca quanto realizzato dalla sua giunta quest'anno, poste le basi per importanti investimenti. Andiamo velocemente sulle altre pagine del quotidiano anconetano. Trasporti sanitari, un anno nel caos. Solaris si è sfilata e gli operatori sono a casa. Servizi affidati alle altre croci, mentre l'Asur paga i primi arretrati. Poi sotto manovre per svendere ai privati. Sotto ancora, anche il 2016 si apre in sella con il Dragone, il moto benvenuto venerdì al Beato Sante, dal Vimbrulè alla benedizione di mezzi e centauri. Cancellato il centro commerciale, andiamo a Pergola, Baldelli, il sindaco illustra la variante di Osteria del Piano, il nostro regalo ai pergolesi, vittime del Partito Democratico. Poi da Urciano il salvataggio di Banca Marche, c'è costato 450 mila euro. La crisi fa aumentare i furti nelle Marche. In regione diminuiscono i reati, tranne per i colpi nelle abitazioni e nei locali. A Macerata crescono invece le estorsioni. I dati ministeriali sono stati elaborati dal centro studi di CNA e di Confartigianato. Poi sotto, che delusione questo governatore, sono parole di Celani di Forza Italia e Carloni di Area Popolare che criticano i primi sei mesi di Luca Ceriscioli. Poi per chi viaggia in autostrada, finalmente una buona notizia. Da oggi c'è la terza corsia, il tratto tra Ancona Nord e Senigallia è stato ultimato dal consorzio Samac. Ora mancano solo i 17 chilometri che sono quelli tra Ancona Sud e Ancona Nord. Insomma, intanto godiamoci questo tratto che era lì in costruzione da un sacco di tempo. Dall'Europa sostegno al mobile per 30 comuni. Siamo sulla pagina di Pesaro. Manuela Bora dice attraverso il Port First, la regione mette in atto misure capaci di rilanciare gli investimenti. Poi a Villa Pavarotti, ecco la notizia interessante, centro pagina, a Villa Pavarotti residence ed elite per gli artisti. Procedono infatti le trattative con la prima moglie di Luciano Pavarotti. Vimini dice, penso ai nomi della grande musica, il comune ne trarrà un beneficio d'immagine tale da implementare il proprio circuito turistico. Si parla addirittura che possa esserci anche Carreras per esempio. Andiamo adesso sul messaggero. Velocemente la pagina principale, quella di Pesaro. Grandi opere volata finale in comune a Pesaro. Una corsa contro il tempo per gli atti amministrativi che permetteranno di sbloccare il tesoretto. Sono già pronte le gare per il vecchio Palace ed ex tribunale. Entro oggi per tutti gli altri progetti. Poi a centro pagina vedete le feste, i tanti brindisi nelle piazze delle Marche, hotel e ristoranti pieni a Capodanno. Questa naturalmente è la piazza del popolo di Pesaro. Poi la cronaca. Gli avvocati di Igli chiedono gli arresti domiciliari con il braccialetto per il loro assistito. Stiamo parlando dell'omicidio di Ismaele e Sant'Angelo in Bado. Grazie alle nuove norme presenteranno un'istanza per la scarcerazione. Poi ci sono hotel pieni. Siamo sulla pagina di Pesaro. Gli hotel pieni grazie ai pacchetti turistici. San Silvestro con il tutto esaurito in una quindicina di alberghi. A tirare però non sono gli eventi ma le comitive della terza età. Il presidente dell'APA dice l'anno è andato meglio del precedente. Ora bisogna investire bene i 530 mila euro della tassa di soggiorno. A tanto infatti hanno messo in cassa i pesaresi tramite la tassa di soggiorno. Aumentate le prenotazioni per i cenoni nei ristoranti. È stato invece arrestato un uomo che ha aggredito la sua compagna. L'ha colpita con schiaffi e pugni. Lei si è barricata in camera ma lui ha sfondato la porta ed è entrato. È successo lunedì sera intorno alle ore 22 a Villa Fastigi in una casa abbastanza isolata in campagna. Andiamo sulla pagina di Fano invece adesso sempre del messaggero. Questa non è una giunta immobile e incapace. Anche qui il bilancio di fine anno del sindaco Seri e poi la risposta di Stefano Aguzzi sul, lo potrete leggere, di spalla. Poi sotto l'Isippo si mobilita anche la regione con la mozione di Rappa e Minardi e poi la mostra Angeli al Museo tra letture per bimbi e concerti. L'altra notizia che troverete insieme agli altri appuntamenti sulla pagina di Fano. Ma chiudiamo con il brindisi in piazza senza big, capodanno a budget ridotto nelle piazze cover band DJ successi anni 60, Rimini invece e Carboni, fuochi d'artificio. Senigallia punta sul doppio spettacolo tridimensionale firmato da Luca Agnani. In questa pagina di giorno e notte troverete un po' tutti gli appuntamenti nelle piazze della nostra regione con uno sguardo anche alla vicina Rimini e Riccione. Io mi fermo qui, la rassegna è finita, grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia e vi ricordo che questa sera alle 20.30 ci sarà in diretta anche l'estrazione dalla sede dell'ente carnevalesca di Fano, l'estrazione della seconda tessera del socio, quindi chi vincerà, chi verrà estratto potrà partecipare a un posto sul carro, un posto sul getto, sul carro allegorico il prossimo anno, quindi nel mese di gennaio quando ci saranno le prossime sfilate di carnevale. Quindi un appuntamento da non perdere questa sera se avete la tessera, comprato la tessera, ne hanno vendute già, ne hanno fatte più di 700 in poche settimane, quindi è stato davvero un record. È tutto, buona giornata stasera. Grazie. Grazie.